Ben ritrovati amici delle stelle o se siete nuovi benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo della settimana, settimana che va dal 6 al 12 marzo 2023. Per tutti i nuovi naviganti che approdano per la prima volta su questo canale io mi presento, mi chiamo Simone, sono un astrologo o meglio un astro coach. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le novità in uscita. Oh bene ragazzi ci siamo, questa è una settimana importantissima, avviene un appuntamento nell'appuntamento. Quello che accade questa settimana il giorno 7 marzo che sarà un giorno potentissimo a livello astrologico è la fine di un circuito che si è aperto tre anni fa circa quando Saturno è entrato nel segno dell'acquario e ha tracciato un nuovo percorso che ci ha portato a vivere gli ultimi tre anni caratterizzati da parecchie instabilità ma la colpa non è di Saturno, ci tengo a sottolineare questa cosa. Saturno purtroppo all'interno del transito che ha fatto nel segno dell'acquario è andato in rotta di collisione con Urano nel segno del toro e quindi gli ultimi tre anni a livello evolutivo e collettivo sono stati molto molto faticosi e adesso si chiude quel circuito e ne incomincia uno nuovo perché il 7 marzo Saturno lascia definitivamente il segno dell'acquario dove ritornerà tra 30 anni ed entra nel segno dei pesci e avvia un nuovo circuito, incomincia a prendere forma questo nuovo tunnel che ci porterà poi ci accompagnerà nel corso dei prossimi tre anni. Uscirà un video a parte solo ed esclusivamente dedicato al transito di Saturno nel segno dei pesci, quali sono tutti quei segni zodiacali che poi lavoreranno braccio a braccio con questo Saturno che cambia di segno e quale tipo di lavoro ci obbligherà a fare Saturno per ogni segno zodiacale e uscirà un nuovo video prima del 7 di marzo anche se vi racconterò delle cose già in questo in questo video. Quello che ci porterà a fare Saturno nel corso dei prossimi tre anni perché Saturno sosterà per tutto il 2023, tutto il 2024, parte del 2025 nel segno dei pesci, poi nel 2025 farà in alcuni mesi un breve ingresso nel segno dell'ariete, poi ritornerà alla fine dell'anno nel segno dei pesci, conclude il suo lavoro, il suo percorso e poi ufficialmente entrerà nel segno dell'ariete a febbraio scusatemi del 2026. Quello che accade da questa settimana è che si chiude un ciclo e se ne apre uno nuovo. Saturno impiega 30 anni circa per raggiungere ogni segno zodiacale e quindi questo Saturno tenderà a riproporre degli schemi che si sono presentati già nella nostra vita per i più come periodo storico. A livello invece collettivo ci obbligherà a fare un nuovo tipo di lavoro in base alla configurazione attuale che c'è in questo momento nel cielo e simbolicamente questi pianeti o meglio la configurazione dei pianeti del nostro sistema solare all'interno delle costellazioni simbolicamente nel corso degli ultimi anni hanno premuto parecchio sull'acceleratore obbligandoci a evolvere molto velocemente. Non so il perché è avvenuto questo, magari perché l'umanità ha poco tempo da perdere quindi devono spingere l'acceleratore per impostare un nuovo cambiamento, un cambio di rotta. Questo non ve lo so dire, ad ogni modo quello che noi abbiamo vissuto nel corso degli ultimi anni è stata un'accelerazione della nostra consapevolezza, della nostra evoluzione. Questo per dire che gli ultimi anni sono stati un po' shakeranti e dove i pianeti ci hanno un po' strapazzato. Adesso finisce, si conclude questo ciclo, peraltro Saturno nei pesci, i pesci sono l'ultimo segno zodiacale quindi è un po' come se chiudesse un ciclo nel ciclo e ci prepara all'apertura di un nuovo capitolo di vita. Poi un altro appuntamento che avviene sempre il 7 di marzo è la luna che diventa piena nel segno opposto ai pesci, la vergine. Questa luna sarà una luna potentissima, una luna di terra che ci porta alla concretezza, a mettere i piedi per terra, ci obbliga a fare questo tipo di lavoro, ci obbliga a fare una massa a terra. A livello emozionale sentiremo la necessità, l'urgenza di etichettare, di inscatolare, di mettere i puntini sulle i, non tanto perché avviene questa luna piena nel segno della vergine, ma perché incontra questa luna dall'altra parte del cielo tutti quei pianeti che stanno sostando nel segno dei pesci, che sono l'antivergine e quindi avremo questo bisogno di tornare ad essere anche molto razionali e quindi cosa è fattibile, cosa non lo è, andremo a inventariare le nostre emozioni, cercando di destrutturare il più possibile progetti, situazioni da mettere a posto, avremo la tendenza a mettere in chiaro delle cose e quando la luna diventa piena il bisogno è quello di portare a termine qualcosa. Questa luna che diventa piena chiude un portale che si è aperto il 20 di febbraio, quando la luna è diventata nuova nel segno dei pesci e quindi i segni mobili che sono connessi in questo momento al tipo di lavoro che li sta obbligando a fare il sole nel segno dei pesci, i segni mobili sono gemelli, vergine, sagittario e pesci che sono i festeggiati del momento, avranno il bisogno, l'urgenza di mettere la parola fine a qualcosa o di dare una destinazione o di strutturare meglio un qualcosa che si è sviluppato. Può essersi sviluppato nel corso delle ultime settimane ma si può anche parlare di un qualcosa che arriva alla fine di un percorso e che è incominciato sei mesi fa circa e quindi si parla del mese di settembre, fine agosto-settembre. Quindi come ben vedete la settimana è molto importante energeticamente, faremo tutti un certo tipo di lavoro. Spero di fare anche un video un po' più light perché poi ne uscirà uno tutto dedicato al transito di Saturno nei pesci dove spiegherò nel dettaglio che cosa faremo a livello collettivo ma anche a livello generale segno per segno nel corso dei prossimi anni con questo nuovo transito di Saturno. Facciamo insieme dall'alto la panoramica di questo cielo, vediamo quali sono anche gli altri pianeti come sono messi all'interno della ruota zodiacale e poi ci concentriamo con le previsioni segno per segno. Il sole in questo momento sta transitando nel segno dei pesci, io faccio tantissimi auguri di buona rinascita a tutti i pesciolini in ascolto che si preparano a spegnere le candeline proprio questa settimana. Mercurio sta transitando da pochissimo nel segno dei pesci, poi abbiamo Venere che sta transitando nel segno dell'ariete, Marte che sta transitando nel segno dei gemelli, Giove che si trova nel segno dell'ariete e Saturno che questa settimana lascia lo spazio zodiacale del segno dell'acquario per entrare nel segno dei pesci. Urano si trova nel segno del toro, Nettuno si trova nel segno dei pesci e Plutone è anche lì pronto per salutare il capricorno ed entrare nel segno dell'acquario. La Luna questa settimana a inizio settimana transita nel segno della Vergine dove avviene la Luna piena nella giornata di Martedì in questo spazio zodiacale, chi è sensibile alla Luna potrebbe dormir male, potrebbe finalmente ritornare a dormire come non dormiva da un bel pezzo, potrebbe sentirsi agitato o a livello mentale questa siccome è una Luna che darà degli impulsi elettrici importanti, magari si sentirà iperattivo e quindi bisogna poi vedere ognuno di noi che tipo di rapporto ha con la propria Luna di nascita e con la Luna che si sta formando in questo momento, con la Luna piena che si sta formando in questo momento nel cielo. Mercoledì fa ancora qualche piccola ora, qualche brevissima ora, scusatemi, nel segno della Vergine, nel corso della mattinata poi esce dalla Vergine per entrare nel segno della bilancia dove sosta tutte le giornate di giovedì e di venerdì, poi sabato e domenica conclude la settimana transitando nel segno dello Scorpione. E quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere come saranno le stelle della settimana. Parliamo del segno dell'Ariete, un segno che si prepara a vivere una settimana all'insegna del ordine, ordine, priorità, tutto quello che deve essere rigorosamente messo in chiaro e questo è l'impulso che darà anche la Luna che diventa piena nel segno della Vergine e che obbliga il nostro Ariete a concretizzare qualcosa. Ora, questa Luna che si forma a inizio settimana nel segno della Vergine può anche avere un forte impatto a livello logistico e organizzativo e siccome preme parecchio l'acceleratore creando delle spinte, i primi due giorni di questa settimana possono anche portarvi ad avere un po' la sensazione di essere con l'acqua alla gola, si possono creare dei sovraccarichi energetici, ma la sottotraccia di questa Luna che è molto bella è quella di ritornare un po' al concetto del benessere, di prendere in mano la propria vita per dare un'impostazione anche diversa alla luce di tutto quello che vi può creare una dipendenza o da tutto quello che vi sta appesantendo nella quotidianità, nei ritmi, nel modo di lavorare e quindi è un ottimo inizio di settimana anche per prendere un po' il controllo di tutte le cose e mettere finalmente ordine e fare chiarezza. Questo sarà un po' l'impostazione che d'ora in avanti accompagnerà la riete, un segno che sta per rinascere e che si ritrova spesso e volentieri nelle ultime settimane a confrontarsi con persone che gli fanno perdere tempo o ha la sensazione di girare un po' a vuoto e questa è una Luna che vi aiuterà a fare finalmente massa a Terra. I primi giorni della settimana sono importantissimi anche per organizzare degli incontri, avere degli appuntamenti importanti nel mondo professionale o per contattare un professionista e incominciare a prendere in mano tutte quelle cose che incominciano un po' a sfumare o a sfuggirvi tra le mani. Quindi ordine, metodo, sono il comune denominatore della settimana. Se avete smosso delle cose, se avete fatto delle richieste per quanto riguarda il vostro lavoro, lunedì e martedì sono giornate che ripropongono qualcosa che si è o interrotto nel corso delle ultime settimane e quindi possono arrivare finalmente delle risposte che poi porteranno l'ufficialità di determinate cose nelle giornate invece che vanno tra mercoledì e venerdì, ma possono anche presentarsi delle dinamiche che vi porteranno a valutare delle proposte o a ricevere delle telefonate e a organizzare e pianificare qualcosa di molto importante a inizio settimana. Questa è una luna che peraltro vi invita ad avere un po' più di benessere nella vostra vita e quindi non escludo che se siamo di fronte magari a una riete che incomincia ad avere una cattiva abitudine o magari è un po' appesantito, tutto quello che ha a che fare poi con la salute e il benessere verrà un po' richiamato all'ordine nelle prime due giornate della settimana. Le giornate che vanno invece da mercoledì inoltrato fino a tutto giovedì e venerdì sono importantissime per ufficializzare qualcosa. È possibile che in quelle giornate si possano anche creare delle opportunità da cogliere per quanto riguarda il lavoro, i progetti nuovi, ma anche per fare delle conoscenze che si riveleranno importantissime o per incominciare qualcosa di nuovo nella vostra vita che poi si manifesterà tra la fine di marzo e per buona parte di aprile. Quindi occhi aperti tra le giornate di mercoledì mattina nella tarda mattinata tutto giovedì e nella giornata di venerdì perché si possono creare delle situazioni che creano anche delle nuove aperture e quindi se avete ricevuto una telefonata per fare un colloquio di lavoro è possibilissimo che in quelle giornate prenda forma e si ufficializzi qualcosa di molto importante. Verso la fine della settimana nelle giornate di sabato e domenica la luna di transito nel segno dello scorpione vi porterà ad avere il bisogno di mettere in pausa determinate cose. Sentirete anche un richiamo un po' particolare che vi invita a ricercare la solitudine o a ricrearvi uno spazio vostro interiore di tranquillità perché quella luna vi invita anche a guardarvi dentro. Sarà difficile nel fine settimana riuscire a stare al passo con le vostre richieste perché potreste risultare come persone difficili da accontentare perché magari quella cosa non vi va bene, volete fare una cosa ma poi in realtà quella cosa vi disturba, quindi meno cose avete da fare, meno appuntamenti avete in agenda, meglio è. Se potete dedicatevi al benessere, al relax e circondatevi di persone che vi portano un nutrimento a livello emozionale e parliamo di sentimenti. Venere sta transitando nel vostro spazio zodiacale, si è appena congiunta con Giove, quindi è come possedere un talismano portafortuna che si attiva nel momento del bisogno. In coppia questo è un momento di decisioni importanti che porteranno poi l'ariete a realizzare delle cose molto grandi a livello di coppia, ma queste decisioni possono anche riguardare tutti quegli a riete in coppia che non sono soddisfatti, non sono felici e quindi questa venere vuole la qualità ed è per questo motivo che se siete in coppia ma ci sono dei problemi questa può essere una settimana decisiva anche per mettere i puntini sulle i, chiudere una relazione che magari si sta rivelando un po' tossica o che non è all'altezza con le vostre aspettative e quindi le giornate più importanti saranno quelle che vanno soprattutto da giovedì e venerdì ed è possibile che l'ariete in coppia se non sta bene prenderà delle decisioni o traccerà dei confini per mettere degli out-out definitivi e risolutivi per far funzionare le cose. Nelle coppie regolari fisse e stabili che stanno benissimo questo è un momento di opportunità, di nuovi inizi, è possibile anche che l'ariete si senta nuovamente coinvolto e innamorato come non accadeva da un bel pezzo e quindi questo è un ottimo momento anche per pianificare a tutto spiano nel futuro. Parliamo di single perché questa è la venere talismano porta fortuna che si attiva nel momento del bisogno. Questa settimana se siete ancora sguardianati gli incontri li farete e c'è un'altissima probabilità di incontrare persone soprattutto attraverso il lavoro, gli appuntamenti che si creano nel lavoro o attraverso tutte quelle persone che ruotano attorno alla vostra professione e le giornate più importanti per cuccare a più non posso sono quelle che vanno da mercoledì pomeriggio fino a tutto venerdì. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Parliamo del segno del toro, segno che si prepara a lasciarsi alle spalle questi ultimi tre anni che sono stati molto faticosi, infatti Saturno questa settimana esce dal segno dell'acquario per entrare nel segno dei pesci e questo comporterà un bel alleggerimento per il nostro amico toro che avrà come la sensazione di liberarsi di uno zaino pieno di pietre, di mollarlo lì da qualche parte e il nuovo comune denominatore sono le novità, i progetti nuovi, tutto quello che adesso porta e spinge il toro verso un futuro che è molto più leggero e molto più sostenibile e questa luna che è potentissima per voi soprattutto nati del segno del toro poiché questa luna avviene in un elemento di terra come il vostro parla di fecondità, di progetti nuovi, di nuove idee da realizzare, o riceverete a inizio settimana tutte quelle folgorazioni, tutti quei lampi di genio, tutte quelle cose che serviranno per condire i vostri progetti futuri. Date retta all'intuito in questo momento, date retta ai segnali perché saranno quelli determinanti per arrivare a un altro appuntamento importante per voi che avviene nel 2023 cioè con Giove che dal 17 di maggio irrompe nel vostro spazio zodiacale porta l'espansione e anche un riequilibrio di tutto quello che vi ha mandato in disequilibrio nel corso degli ultimi anni, ancora prima della pandemia. Quindi adesso diventa un bellissimo momento per proiettarsi nel futuro con leggerezza ed entusiasmo e il comune denominatore da questa settimana sono i progetti nuovi, le amicizie, le iniziative, tutto quello che è condiviso anche con altre persone che incomincia a riconoscere un bel credito che avete maturato. Le giornate di lunedì e di martedì vi portano oltretutto anche ad avere un'ottima visibilità, ad essere riconosciuti e potreste finalmente ottenere dei vantaggi o dei riconoscimenti importanti anche a livello professionale e quindi non escludo che possano arrivare delle conferme per chi ha un contratto in scadenza, possano smuoversi, sbloccarsi delle cose che vi hanno tenuto magari un po' con il fiato in sospeso e arrivano le conferme. Se dovete fare delle richieste, se dovete lanciare dei segnali, se dovete in qualche modo smuovere delle cose per ottenere dei vantaggi, muovetevi sicuramente tra lunedì e martedì. Questa è una luna che sarà anche particolarmente feconda, non solo per fecondare i progetti che sono lì in cantiere e che vorreste sviluppare, ma potrebbe anche andare a fecondare tutte quelle persone che desiderano ottenere quel lampo di genio creativo che vi aiuterà anche a cambiare destinazione d'uso a un progetto e quindi a vederlo da una prospettiva diversa o a ottenere anche un bel pizzico di fortuna attraverso proprio magari le altre persone che vi porteranno ad ottenere finalmente dei vantaggi. Le giornate invece che vanno da mercoledì, soprattutto dal pomeriggio di mercoledì, tutto giovedì e tutto venerdì, saranno particolarmente impegnative a livello logistico e anche fisico ed energetico, quindi mi raccomando non accelerate troppo, non intasatevi di roba e di impegni, anche perché sono impegnative a livello proprio professionale, ma anche nella quotidianità saranno molto molto pesanti, quindi mi raccomando non andate oltre a quelli che sono i vostri limiti, perché il rischio è quello di arrivare poi nel fine settimana con la lingua completamente sotto i piedi. Bellissimo invece il fine settimana con questa luna di transito nel segno opposto nello scorpione che andrà in aspetto di trigono a tutti quei pianeti nel segno dei pesci e quindi preparatevi a vivere un fine settimana molto divertente, dove farete delle cose fuori un po' dall'ordinario ed è possibile che possano arrivare degli inviti all'ultimo minuto o che si possano creare delle situazioni inaspettate nel fine settimana che vi portano ad avere anche un benessere e vi portano a star bene e a fare anche un sacco di conoscenze nuove, cosa molto utile dal momento che nelle relazioni con questa venere nel segno alle vostre spalle, cioè nella riete, si creano magari dei momenti dove nell'amore c'è un po' di confusione. Ora parliamo proprio di sentimenti perché venere nel segno alle spalle vi porta a confrontarvi con un momento non proprio felicissimo nei rapporti e nelle relazioni. Magari qualcuno è dubbioso, magari ci sono delle situazioni da mettere a posto o forse il toro si sta rendendo conto di aver investito troppo e messo da parte alcune cose. Il comune denominatore con questa venere che si forma nel segno alle spalle sono soprattutto tutte quelle cose che vi portano a sacrificare una parte di voi in nome di un qualcosa che magari non vi corrisponde più. E se siete in una coppia dove c'è un po' di malessere o vi sentite non del tutto realizzati, è arrivato forse il momento di parlare, di mettere, di tracciare dei confini, di mettere in chiaro determinate cose. Le giornate più importanti per fare questo tipo di lavoro sono proprio quelle di lunedì e di martedì che vi daranno come un passepartout anche per risolvere determinati problemi e inoltre quelle del fine settimana che saranno molto belle. Incominciate a parlarne con il partner, non trattenete tutto dentro perché sennò poi quando arriva venere a marzo inoltrato nel vostro spazio zodiacale, quindi ancora una settimana, e poi magari prenderete delle decisioni che possono anche essere drastiche, quindi è adesso che bisogna preparare il terreno per riscoprire quello che di bello al momento non c'è. Per le coppie invece regolari che stanno benissimo questo può essere magari un momento di dispersione dell'amore a causa di impegni, situazioni che vi portano magari a non investire più di tanto nelle dinamiche di coppia. Non fatelo e se state aspettando delle novità o se siete magari alla ricerca di un figlio e volete l'espansione, beh le giornate di lunedì e di martedì sono particolarmente feconde. Anche quelle del fine settimana sono molto belle. Single? Allora, da questa settimana ci sono delle importanti novità per i cuori soli. È vero, venere è ancora nel segno alle spalle, non è ancora entrata, ma non escludo che si possano innescare dei meccanismi proprio in questa settimana che vi porteranno a incontrare, a conoscere delle persone che possono rivelarsi importantissime tra qualche settimana, quando poi venere dal 17 di marzo irromperà proprio nel vostro spazio zodiacale. Quindi non escludo che tra lunedì e martedì e poi ancora nel fine settimana avrete la possibilità di fare delle conoscenze che incominciano a lasciare il segno, sempre se siete desiderosi di incontrare qualcuno in questo momento. Quindi tra lunedì e martedì, se avete già messo gli occhi su qualcuno, su una possibile preda, lanciate un segnale, lanciate un sassolino perché avrete visibilità più non posso e poi utilizzate ancora il fine settimana per uscire dalla vostra zona di comfort e farvi shakerare positivamente perché non escludo che tutto quello che vi possa arrivare adesso sarà determinante tra qualche settimana. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Parliamo del segno dei gemelli, bando alle ciance ragazzi, questa settimana sarà particolarmente impegnativa perché Saturno lascia lo spazio zodiacale del segno amico dell'acquario per entrare nel punto più alto del vostro cielo, i pesci, il tutto condito da una luna che diventa piena nello spazio zodiacale della Vergine, nel punto più basso del vostro cielo. L'asse quarta decima, quindi tutto quello che ha a che fare con il lavoro, la casa, la famiglia, ma anche le emozioni saranno particolarmente ballerine nel corso delle prime giornate di questa settimana e incomincia a tracciarsi un percorso che vi accompagnerà nel corso dei prossimi tre anni verso la maturità e verso il raggiungimento degli obiettivi. Ve lo spiego meglio in un video che uscirà prima del 7 di marzo, quindi state all'ascolto e non perdetevi le novità. Ci tengo a sottolineare però che non sarà così per i prossimi tre anni da questa settimana, è che però da questa settimana incominciano a prendere forma delle configurazioni nel cielo che hanno il delicato compito di portarvi verso il traguardo, verso la maturità. Quindi non prendete sempre tutto troppo sul personale visto che avete anche Marte nel segno, ma cercate di capire quali possono essere gli ostacoli all'orizzonte, cosa dovete cambiare nel vostro atteggiamento o cosa dovete incominciare a prendere in mano per far funzionare le cose che non stanno funzionando, perché questo Saturno pane al pane, vino al vino, vuole incominciare a portarvi verso la realizzazione. Ora questa è una settimana che energeticamente incomincia a portare anche un po' di stanchezza. I gemelli sono da parecchi mesi che convivono con Marte nel proprio spazio zodiacale. Marte ha creato sicuramente delle spinte a tutti i nuovi inizi, ma vi ha portato anche a scontrarvi con tutte quelle cose che possono essere una minaccia per il vostro avvenire e per la vostra realizzazione. E adesso entrando Saturno i giochi si fanno molto più seri, nel senso che Saturno vi obbliga a prendere di mira tutte quelle cose, a risolvere tutte quelle cose per realizzarvi e quindi ci vuole concretezza, ci vuole costanza, ci vuole determinazione. Il tutto però condito da una luna che diventa piena nel segno della Vergine e che vi porterà a confrontarvi proprio con delle emozioni che vi porteranno a inizio settimana ad essere un po' fragili o un po' sceccherati emotivamente. La luna quando diventa piena in questo punto del cielo può anche portare a compimento un qualcosa per il quale magari vi siete spesi parecchio e quindi si può parlare di un progetto connesso alla famiglia, si può parlare di un familiare magari che vi ha dato del filo da torcere o se si sono creati dei problemi in famiglia finalmente si possono risolvere però vi dovete assumere delle responsabilità e questo per i gemelli di tanto in tanto può insomma portare ad avere degli effetti anche collaterali. Ad ogni modo la casa, il lavoro sono un po' il comune denominatore di inizio settimana e si possono anche generare però tutte quelle cose che avete trascurato, che avete lasciato da parte e che proprio incominciano ad appesantirvi con questa settimana. Ora io lo so che voi vorreste sentirvi dire altro ma non posso raccontarvi una favoletta. C'è però un aspetto positivo che può arrivare in vostro soccorso questa settimana ed è la luna che transita nel segno della bilancia. Ora l'inizio della settimana è molto faticoso proprio perché potreste essere molto confusi, magari questa è una luna che vuole riportarvi ad avere a mettere i piedi un po' per terra, a prendere consapevolezza eccetera eccetera. Dall'altra però questa luna che poi esce mercoledì nel corso della mattinata di mercoledì dal segno della vergine entra nel segno della bilancia e quando entra nel segno della bilancia tra mercoledì, pomeriggio, giovedì e venerdì si possono creare anche delle situazioni che sono molto fortunate. Negli incontri con persone si possono anche generare tutti quei giolli che dalla manica spunteranno e che vi aiuteranno a risolvere quel tipo di problema, a guardarlo da una prospettiva diversa ma anche a cogliere le opportunità che si possono presentare all'interno di quella situazione. Ora, a inizio settimana se potete prendete un po' tutto con le pinze, cercate di guardare le cose da una prospettiva diversa, mettetevi un po' in discussione e non andate in rotta di collisione o non scappate da determinate cose perché i primi giorni sono un po' così. Dopodiché arrivano tutti i passepartout, arrivano tutti i giolli che vi consentiranno di risolvere quel tipo di problema. Non escludo che per qualcuno possa concludersi un certo tipo di magari contratto a livello professionale o si possano creare delle scissioni tra soci e collaboratori, soprattutto se queste situazioni non sono allineate al vostro progetto di vita e quindi il concetto è proprio questo. Poi nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì si creano delle situazioni molto interessanti di ripresa che vi porteranno anche a cogliere delle nuove opportunità. In quelle giornate oltretutto sarete particolarmente visibili e quindi se dovete fare delle richieste, se dovete smuovere diplomaticamente delle cose, se dovete trovare la forza di volontà anche per risolvere queste cose nel modo giusto, utilizzate queste giornate perché saranno molto molto amiche e non escludo che un amico, un professionista, un qualcuno che ruoti attorno alla vostra esistenza possa darvi quel consiglio giusto al momento giusto, ma potreste anche trovarvi al posto giusto nel momento giusto con le persone giuste in quelle giornate. Le giornate infine del weekend con la luna di transito nel segno dello scorpione vi porteranno a ripiegare sul benessere, ad aver bisogno di staccare molto la spina, di non avere troppi impegni e non escludo che qualcuno di voi possa anche annullare qualche appuntamento precedentemente preso perché non si sente fisicamente all'altezza o non si sente fisicamente performante. Per tutti quelli che invece lavorano nel fine settimana possono crearsi delle situazioni che aumentano lo stress, le responsabilità, ma attraverso la vostra logica e il problem solving di cui siete dotati dalla nascita, io ho come l'impressione che vi ritroverete a risolvere un problema e questa cosa vi porterà a brillare di più davanti a chi può giudicare e può farvi fare un certo tipo di percorso a livello professionale. Quindi dateci dentro. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere in questo momento sta transitando nel segno dell'ariete e quindi si parla di novità anche per chi è in coppia. Questo è un ottimo momento per pianificare a tutto spiano per quanto riguarda il futuro, il raggiungimento di obiettivi futuri e con Saturno che entra adesso nel segno dei pesci bisogna dare una struttura a questi sogni o a questi progetti da realizzare nel futuro e quindi bisogna concretizzare il più possibile. Cambierete anche atteggiamento nei confronti di tutto quello che poi dà il là al vostro ingegno, al vostro modo di vedere le cose e il mondo, perché il bisogno è proprio quello di realizzare, di edificare, di costruire e quindi anche in coppia tenderete poi a pretendere di vedere queste cose e quindi potreste anche incalzare su determinate cose da realizzare nel corso del futuro. Le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì saranno bellissime per l'amore, potreste anche ricevere o vivere dei momenti che vi porteranno a, insomma, a riconoscere finalmente questo partner magari dopo un momento di difficoltà e non escludo che il partner possa tendervi un aiuto preziosissimo proprio nel momento del bisogno. Per quanto riguarda invece i single, occhi aperti all'orizzonte perché questa settimana si creano delle situazioni molto interessanti negli incontri e sono soprattutto le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì che vi aiuteranno a fare colpo su qualcuno. Se avete già messo gli occhi su qualcuno, se ci sono delle cose che vi portano a provare un sentimento inaspettato per una persona che magari era prima un amico, ruotava attorno magari alla vostra professione eccetera eccetera, utilizzate le giornate che vanno da mercoledì pomeriggio fino a tutto venerdì per lanciare dei segnali, fate i famosi segnali di fumo perché questo è un momento che può rivelarsi determinante per raggiungere un obiettivo e fare colpo. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Parliamo del segno del cancro, segno che sta vivendo un momento molto interessante dal mio punto di vista che è caratterizzato da queste configurazioni astrologiche che lo invitano a mettersi alla ricerca, a esplorare questi nuovi orizzonti da raggiungere per se stesso ma anche magari per raggiungere dei traguardi importanti nel lavoro. Il tutto condito da una settimana che sta per arrivare che creerà delle spinte molto interessanti che vi aiuteranno sicuramente a scorgere nuovi segnali, a raggiungere dei traguardi ma anche a incominciare magari a sviluppare qualcosa di nuovo. Il comune denominatore è il viaggio ma non è il viaggio quello che vi porta poi ad andare sulle quattro ruote o sulle ali a spostarvi. È un viaggio che fate dentro di voi, vi porta a captare dei segnali nuovi, vi porta a maturare anche tutta una serie di esperienze nuove che saranno determinanti e quindi è possibile che il cancro in questo momento stia sognando ad occhi aperti o senta il forte desiderio e impulso di tracciare un nuovo percorso o di dare una nuova destinazione d'uso alla propria esistenza. Il tutto condito da una luna che diventa piena proprio questa settimana, inizio settimana, e che creerà delle condizioni molto importanti che possono aprire nuovi scenari, aprire delle porte che gli hanno sbattuto in faccia e portare delle notizie o delle conferme che saranno molto ghiotte, soprattutto per tutti quei cancro che stanno pensando di iscriversi a un corso o che vogliono dare una nuova destinazione d'uso alla propria esistenza e quindi anche per tutti quelli che magari si sentono ancora un po' indietro o che non hanno ancora il coraggio o che non si sentono del tutto pronti, appariranno dei segnali tra lunedì e martedì che non possono essere ignorati e trascurati e quindi lì per quelli che sono rimasti ancora un po' indietro si allargano proprio questi spazi nuovi che vi consentiranno anche di prendere meglio la mira su questi progetti da sviluppare o ad avere le idee sempre più chiare nel dove andare e soprattutto con chi. Le giornate di lunedì e martedì saranno anche caratterizzate da delle spinte notevoli per tutti quelli che sono magari in viaggio o che devono gestire degli appuntamenti importanti di lavoro, si possono creare dei momenti con questa luna che sta per diventare piena e lo sarà nella giornata di martedì che creano anche un po' di ansietta, di tensione, magari anche qualche piccolo ritardo o qualche piccolo imprevisto che vi farà perdere tempo ma ricordatevi che se in questo momento si dovessero creare delle situazioni che vi fanno perdere del tempo e vi fanno ritrovare da tutt'altra parte rispetto a quello che era la vostra idea è perché state andando nel posto giusto nel momento giusto quindi si creano delle situazioni che paradossalmente vi portano magari tra le braccia di una situazione che è più indicata per voi quindi non prendetevela se qualcosa dovesse cambiare nella vostra routine, nei vostri programmi, negli impegni presi perché vi ritroverete poi paradossalmente a vivere, a fare delle esperienze che vi porteranno poi magari ad essere al posto giusto nel momento giusto con le persone giuste. Tra lunedì e martedì possono anche arrivare delle risposte che state aspettando da parecchio tempo, si possono, c'è la possibilità finalmente di mettere la firma su alcuni documenti importanti. Per tutti quelli che stanno pensando di cambiare mezzo di trasporto o che devono magari fare un investimento cambiando degli apparecchi elettronici o perché vogliono insomma comprare delle cose per quanto riguarda la casa, un elettrodomestico, devono affrontare una spesa importante, ecco che appariranno anche in quelle giornate delle occasioni da sfruttare. Per non parlare del fatto che chi dovrà sostenere degli esami, dei colloqui orali scritti in quelle giornate sarà protetto dalla superluna che si crea proprio nella giornata di martedì 7. Poi la settimana incomincia a prendere un'inclinazione diversa con questa luna che nel corso della giornata di mercoledì esce dallo spazio zodiacale della Vergine per entrare nel segno della bilancia e lì le emozioni vi porteranno ad andare un po' sott'acqua, si possono creare magari delle situazioni che vi riportano a scendere dalla nuvoletta e a gestire magari anche delle cose a livello logistico connesse alla casa o al lavoro che vi porteranno a impegnarvi parecchio. Sono giornate dall'umore un po' sottotono dove si possono creare delle situazioni che vi porteranno anche ad assumervi magari delle responsabilità contro voglia. Ottimo invece il fine settimana con una luna che transita nel segno amico dello scorpione che vi accende di desiderio e vi porterà anche a fare delle esperienze molto positive nel fine settimana che anche loro contribuiranno ad allargare questi orizzonti. È possibile che organizzerete qualcosa di molto diverso dalla routine generale nel fine settimana, è possibile anche fare magari un viaggetto, uno spostamento o pianificare qualcosa che vi porterà a sentirvi bene e bene ma come non lo eravate da parecchio tempo a questa parte. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, la quadratura di venere porta rigidità soprattutto in coppia e quindi si possono magari creare anche dei momenti dove il lavoro, la casa possono rubare la scena ai sentimenti e quindi è possibile che il cancro in questo momento debba rinunciare magari a delle cose o debba gestire delle cose che lo portano a disinvestire temporaneamente nelle dinamiche di coppia e quindi magari per alcuni di voi la sensazione è quella di non riuscire a godervi il partner come vorreste o a non avere il tempo per dedicare spazio all'amore. Questa settimana ci saranno delle occasioni per riscaldare le cose, per parlarne tranne nelle giornate di mercoledì pomeriggio, giovedì e venerdì che avranno delle frequenze molto alte. Le altre giornate della settimana sono particolarmente piacevoli e vi anticipano un assaggio di quello che poi farete nel corso delle prossime settimane dal 17 di marzo in avanti quando venere poi uscirà dall'ariete. Per quelle coppie che si sono appena consolidate questo è un momento di prove su strada per valutare se c'è voglia, impegno, determinazione nel costruire e là dove invece non ci sono questi elementi allora vedremo un cancro che prende delle decisioni importanti soprattutto nelle giornate di mercoledì pomeriggio, giovedì e venerdì. Single, qui in questo momento attenzione a tutte le persone che attirate nella vostra vita perché con questa quadratura di venere il rischio è quello di attirare delle dinamiche poco limpide o ibride perché magari da una parte siete, vi sentite pronti, dall'altra però logisticamente non lo siete ancora o non vi date del tutto il permesso di aprirvi a queste nuove esperienze nel modo giusto. Questa è una settimana che però vi porterà ad avere un assaggio di quello che poi si realizzerà dal 17 di marzo in avanti quando venere uscirà dalla quadratura e non escludo che possiate fare un incontro soprattutto alla fine della settimana che può lasciare il segno. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Parliamo del segno del leone, segno che si prepara attraverso uno squillo di tromba e un rullo di tamburi a salutare Saturno che dopo tre anni leva le tende dal segno dell'acquario e quindi si interrompe con questa settimana l'opposizione che vi ha fatto compagnia tra virgolette nel corso degli ultimi anni e da questa settimana incomincia ad esserci una configurazione nuova che vi porterà a ricostruire sulle macerie dopo anni di devastazione, dopo anni di pulizie dopo anni di cesoie in mano che vi hanno obbligato a tagliare i rami secchi. Quello che resta oggi è una nuova struttura, infatti il leone ha un po' raso al suolo determinate cose soprattutto nei rapporti, nei rapporti professionali, nei rapporti anche sentimentali, ci sono state delle chiusure e quello che resta oggi è una struttura, una struttura da rimettere un po' a posto, da abbellire perché è rimasto soprattutto lo scheletro. Quello che non cambia assolutamente dopo tutto il lavoro che avete fatto nel corso degli ultimi anni è il vostro atteggiamento, cioè da una parte Saturno se ne va e vi sentirete alleggeriti, pronti per mettervi finalmente in discussione e in marcia. Dall'altra però il lavoro che vi ha fatto fare Saturno è quello di cambiare atteggiamento nei confronti degli altri e quindi io vedo un leone che non perde la sua brillantezza ma in qualche modo oggi è più sicuro, oggi è più maturo, oggi è più consapevole di quello che deve dare e di quello che deve ricevere dall'altra parte senza andare più di tanto in disequilibrio e questo è un po' il comune denominatore ma farò un video esclusivo proprio su Saturno che entra nei pesci e quindi poi vi spiegherò che cosa vi porterà a fare questo tipo di nuovo percorso nel corso dei prossimi anni con Saturno che entra nei pesci da questa settimana. Ora la parola d'ordine della settimana che sta per arrivare è la priorità, questa è la parola d'ordine perché con la luna che diventa piena nel segno della Vergine il leone si rende conto di avere delle cose che magari non sta utilizzando nel modo giusto o di essere in circuiti dove non gli viene riconosciuto il proprio valore, il proprio talento e questa luna ha il delicato compito anche di portarvi a raggiungere quel traguardo, a ottenere quel credito. Una settimana molto importante soprattutto per quanto riguarda gli affari, i soldini, gli investimenti fatti ma anche per incominciare a impostare nuove regole del gioco alla luce di quello che avete già fatto come tipo di lavoro per non scendere a inutili compromessi e rinegoziare quello che valete davvero e quindi è possibile che da questa settimana vedremo anche un leone mettere un po' i puntini su lei e dire no guarda questa roba che c'è nel contratto non mi sta bene e quindi facciamo il modo di trovare una soluzione altrimenti arrivederci e grazie e quindi questa cosa lo porterà a confrontarsi con un cambiamento importante poi man mano che si procede con il passare delle settimane prenderà sempre più forza e grinta nel raggiungere questi traguardi nuovi. Le giornate di lunedì e di martedì sono molto importanti come vi anticipavo per ottenere un credito che dovete riscuotere per sistemare una parte finanziaria un po' spinosa che vi è stata un po' sulle spine o per mettere a posto delle cose anche per tutti quei leoni che hanno dovuto gestire delle situazioni poco gradevoli soprattutto magari per chi è stato alle prese con una eredità da mettere a posto delle cose da sistemare in campo economico in fase di separazione ci sono dei vantaggi ma questa luna che diventa piena nel segno della vergine può anche portarvi a intercettare delle cose che più che altro erano classificate come dei sospetti che avevate e quindi questa luna vi può portare una conferma sui vostri sospetti positiva negativa questo non ve lo so dire però sono giornate di importanti rivelazioni che vi consentiranno anche di aprire definitivamente gli occhi su alcune dinamiche su alcune persone su alcune cose e in base a quello che vedrete aprendo gli occhi incomincerete ad applicare delle nuove regole del vostro gioco che è cambiato le giornate invece di mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì saranno straordinarie perché quelle sono giornate che non solo produrranno una serie di nuove velocità ma vi porteranno anche a cogliere delle opportunità anche di cambiamento non escludo che se avete fatto magari delle richieste se state aspettando delle risposte soprattutto in merito professionale o se in qualche modo avete smosso delle cose vi arriveranno tutte le risposte che state cercando proprio in quelle giornate sono anche giornate che incominciano ad allargare i vostri orizzonti che vi portano a scorgere dei segnali di speranza e questo vi porterà ad avere anche un atteggiamento completamente diverso e questo vi aiuterà anche ad essere notati ad essere visti per quello che siete se avete una risposta non tenetela in tasca se avete un'idea un'intuizione non tenetela lì perché quelle sono giornate estremamente importanti che vi possono portare anche a stretto contatto con delle persone che possono fare la differenza nella vostra vita anche negli incontri non professionali ma personali nel fine settimana la luna entrerà in quadratura nel segno dello scorpione ma nonostante tutto nonostante sia in quadratura nel fine settimana sentirete forte il bisogno e la necessità di stare tranquilli di chiudervi da qualche parte per contemplare tutto il tipo di percorso che avete fatto nel corso degli ultimi anni soprattutto anche delle ultime settimane che sono state molto impegnative e vi guarderete dentro da una prospettiva completamente diversa un parente un familiare qualcuno che vi ruota attorno nel fine settimana vi farà capire quanto è importante e fondamentale la vostra presenza magari nella sua vita o viceversa e c'è un momento di raccoglimento importante nel fine settimana che vi aiuterà a fare leva e a proiettarvi verso il futuro per quanto riguarda il discorso sentimenti questo è un momento molto importante con venere di transito nel segno della riete che vi aiuta a dare una destinazione d'uso magari diversa a una a un vostro rapporto di coppia che magari aveva bisogno di essere inquadrato in un modo diverso in questo momento è possibile parlare tanto insieme al partner di futuro di dove state andando cosa volete reali cosa vorreste realizzare quali sono gli obiettivi da da raggiungere il tutto condito anche con dei momenti di forte passionalità e con questa settimana che esce saturno dall'opposizione beh incomincia un momento importantissimo di ricostruzione dove finalmente riuscirà a proiettarsi verso quegli orizzonti nuovi da esplorare e per chi invece è single questa è una settimana che vi porta a conoscere persone con più facilità anche a causa o complice come si suol dire saturno che se ne esce dalle scatole e questo vi aiuterà sicuramente a cambiare atteggiamento e ad accogliere con un entusiasmo completamente diverso tutte le novità che possono apparire all'orizzonte e le giornate di mercoledì giovedì e venerdì possono rubare la vostra attenzione e non escludo che si possano fare degli incontri proprio in quelle giornate che lasceranno il segno fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollici in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare parliamo del segno della vergine segno che da questa settimana si confronterà con l'opposizione di saturno saturno vi farà compagnia per i prossimi tre anni ed è da questa settimana che incomincia a snodarsi un percorso alternativo e che vi porterà a maturare a crescere a prendere delle decisioni che si riveleranno importantissime ma soprattutto a concretizzare la vergine più di chiunque altro è stata vittima di Nettuno in opposizione e il Nettuno è quel pianeta che fa gaslighting dall'altra parte e quindi tutto quello che ha a che fare con i rapporti tutto quello che ha a che fare con le relazioni anche nel lavoro a volte la vergine è entrata dentro a dei circuiti molto nebulosi molto confusionari ed è adesso che questo saturno deve dare un senso alla struttura e vi aiuterà tantissimo a prendere in mano le redini della vostra vita e a dare un senso nuovo a tutte quelle cose che sono troppo nebulose ve lo spiego meglio in un video a parte dedicato a saturno che uscirà prima del 7 di marzo ma questa settimana incominciano proprio a cambiare le frequenze ci tengo a precisare che voi non sentirete saturno costantemente per i prossimi tre anni ma incomincia tutto da questa settimana settimana dove peraltro sarete anche i protagonisti con questa luna che diventa piena proprio in vostro onore questo è un momento importante per la vergine perché molte cose possono arrivare a una fase conclusiva e definitiva sono soprattutto i progetti magari che sono già in cantiere che possono da questa settimana finalmente raggiungere un punto di cottura ideale e quindi anche dare una svolta un andamento completamente diverso questa luna diventa piena nel vostro spazio zodiacale e chiude due portali uno che si è aperto da poco il 20 di febbraio quando la luna è diventata nuova nel segno dei pesci e quindi tutto quello che ha a che fare con le trattative in corso tutto quello che vi deve portare ad ottenere delle conferme delle risposte con questa settimana arrivano tutti quei segnali che vi porteranno a ufficializzare delle cose ma può anche chiudere un portale che si è aperto tra la fine di agosto e inizi di settembre quando la luna era nuova nel vostro spazio zodiacale ed è diventata piena nel segno dei pesci quindi è possibile magari che una relazione finalmente possa raggiungere quel grado di maturazione tale che vi consentirà poi di ufficializzare qualcosa ma potremmo anche essere di fronte a una vergine che incomincia ad applicare dei tagli perché sente che le cose che sta portando avanti non sono più allineate alle proprie necessità o al proprio progetto di vita e quindi le prime giornate della settimana con la luna che diventa piena nel vostro spazio zodiacale incalzano parecchio per portarvi che cosa? ad ottenere delle risposte, ad avere delle garanzie, delle certezze granitiche adesso con Saturno che entra nel segno dei pesci non vedremo più una vergine che nel mondo di Alice del Paese delle Meraviglie ma una vergine concreta, risoluta che dirà o sei la soluzione o sei il problema se sei la soluzione fatti avanti se sei il problema quella è la porta e quindi nelle trattative in corso, nei rapporti professionali in tutte quelle dinamiche che sono un po' da mettere a posto vedremo una vergine che cambierà completamente atteggiamento in queste prime due giornate della settimana possono arrivare delle risposte molto importanti di cose che vi hanno lasciato un po' in sospeso e c'è anche la possibilità di mettere la firma su dei documenti come assunzioni di lavoro o documenti nuovi molto importanti in merito ai progetti che vorreste sviluppare le giornate di mercoledì pomeriggio soprattutto giovedì e venerdì sono interessanti per ottenere un vantaggio di natura economica oppure per sistemare una questione burocratica che ha a che fare sempre con le finanze ottenendo dei vantaggi anche da parte di qualcuno che vi darà un consiglio che si rivelerà importantissimo per risolvere un certo tipo di problema sono giornate che possono anche un po' scombussolare quelle a inizio settimana e che possono però poi nel corso di queste due giornate soprattutto giovedì e venerdì prendere una forma definitiva che vi porta ad ottenere un qualcosa di certo e dandovi delle garanzie nuove ottimo invece il fine settimana con questa luna che transita nel segno dello scorpione e che incomincia a creare nuove aperture stimoli diversi e che vi porta ad armonizzare il cielo opposto al vostro che è carico di pianeti che vi invitano a trarre delle conclusioni fare dei bilanci e avrete la possibilità di vivere un fine settimana che sarà super interessante dove vi darete anche il permesso di fare cose nuove è possibile che prenderete in considerazione l'idea magari di fare un piccolo spostamento andrete alla ricerca di quelle novità che vi porteranno a incontrare delle persone le persone che incontrerete in questo fine settimana o tutte le illuminazioni che riceverete in questo fine settimana verranno portate a termine o comunque vi saranno particolarmente utili soprattutto nel corso delle prossime settimane dal 17 in avanti quando le frequenze tenderanno ad armonizzarsi grazie anche a Venere che entrerà nel segno del toro parliamo di sentimenti in questo momento Venere sta transitando nel segno dell'ariete e in questo spazio zodiacale tende a mostrarvi il lato ombra delle cose è possibile che magari in coppia la nostra Vergine si possa sentire magari incominci ad essere magari un po' delusa di un atteggiamento del partner e incominci a vedere le cose effettivamente per come sono questa è una Venere che vi porta anche ad andare nelle profondità ma anche ad aprire un po' gli occhi e ahimè è una Venere che qualora dovesse trovare al suo passaggio delle cose che la portano ad avere un dubbio a non sentirsi del tutto sicura poi farà innescare dei meccanismi di difesa che vi porteranno anche a ridistribuire delle trappole per mettere alla prova le persone ricordatevi sempre che quando state scavando una fossa dovete stare attenti poi a non finirci dentro voi ad ogni modo se ci sono delle cose che non stanno funzionando in coppia questo è il momento di parlarne nel senso di prendere anche una decisione per far funzionare le cose o per chiudere definitivamente le giornate più instabili soprattutto per quanto riguarda per quanto riguardano i rapporti che sono in disequilibrio sono quelle di inizio settimana poi verso la fine non escludo che si possano aprire dei negoziati per sistemare queste cose quindi non tenetevi tutto dentro incominciate a mettere degli out out delle cose iniziate a lanciare dei segnali per far capire al partner che non c'è tempo da perdere e che se si può salvare se si può sistemare qualcosa è adesso che si può correggere il tutto e non escludo che nel fine settimana possano proprio crearsi quei momenti per risolvere anche un certo tipo di problema nelle coppie regolari che stanno benissimo dove non hanno problemi di alcun genere vi spiego nell'oroscopo di Saturno che cosa rappresenta l'opposizione di Saturno per quanto riguarda le coppie ma da questa settimana possono aumentare di una certa intensità tutte le questioni che riguardano il divertimento sotto le lenzuola e sentirete forte il bisogno di crearvi degli spazi nuovi da condividere insieme al partner di ricrearvi anche dei momenti di eros o di leggerezza per rompere uno status quo che è diventato troppo rigido single in questo momento io ho come l'impressione che la Vergine non si senta ancora del tutto a posto per aprirsi con leggerezza nei confronti delle persone in questo momento è possibile attirare magari delle situazioni che vi fanno vi portano magari a divertirvi di più sotto le lenzuola ma a darvi anche meno garanzie o ad avere voi un atteggiamento un po' un po' distonico scusatemi il cane che sbabiglia mi sta chiamando ad avere voi un atteggiamento un po' distonico e a non sapere che cosa volete voi dagli altri ora le cose cambieranno dal 17 di marzo in avanti quando Venere entrerà nel segno del toro per il momento si possono creare delle situazioni molto interessanti soprattutto verso la fine di questa settimana e non escludo che tutto quello che adesso nasce sotto le lenzuola poi possa diventare qualcosa di più forte più avanti fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno della bilancia segno che si prepara a vivere una settimana che sarà molto impegnativa soprattutto a inizio settimana a livello logistico ma anche a livello pratico la luna che diventa piena nel segno alle vostre spalle può indicare che la bilancia è arrivata ad essere bella piena piena di impegni di situazioni da mettere a posto o anche di cose da realizzare il richiamo all'ordine alla disciplina e al controllo sarà il comune denominatore di questa settimana che parte con una bilancia che sarà un po' infagottata è appesantita dai ritmi dalla routine dalla gestione del tempo dalle scadenze che incombono e che tutto ha come la sensazione di essere più appesantito sulle spalle della bilancia dopodiché la settimana incomincia a prendere una un andamento completamente diverso però all'inizio ragazzi preparatevi perché sarà impegnativo e faticoso questa luna che diventa piena nel segno alle spalle della bilancia porta la bilancia anche a considerare tutto quello che è diventato impegnativo troppo impegnativo da sostenere nei ritmi nella gestione del tempo nelle scadenze da portare a termine progetti nuovi vecchi e avrà la tendenza tra lunedì e martedì di questa settimana a fare una sorta di bilancio di resoconto di tutto quello che la sta portando ad appesantirsi inutilmente cosa è fattibile cosa non lo è e questa fase di destrutturazione continuerà anche nel corso dei prossimi mesi anche dovuto al fatto che Saturno entra proprio nel segno dei pesci e questo comporterà una maggiore disciplina da parte della bilancia per orientare determinate cose che appesantiscono la nostra povera bilancia ora molti di voi sentiranno il bisogno di allontanarsi energeticamente da alcune cose che fanno a livello quotidiano altri sentiranno magari il bisogno di riprendere un po' in mano il controllo di tutto quello che sta un po' sfuggendo e che si sta cronicizzando e sta diventando una cattiva abitudine e quindi questo può essere anche un ottimo momento per incominciare una dieta incominciare a sviluppare un progetto che poggia su delle basi un po' più solide ora a inizio settimana possono anche presentarsi delle situazioni tra lunedì e martedì che portano lo sblocco di notizie portano delle chiamate di lavoro e tutte queste cose possono anche essere rilasciate contemporaneamente e quindi generando anche un po' di ansia e un po' di stress le giornate più belle della settimana saranno quelle caratterizzate dalla luna che transita proprio nello spazio zodiacale della bilancia nel corso della giornata di mercoledì quando la luna lascerà lo spazio zodiacale della vergine per irrompere nel segno della bilancia porterà la bilancia a riprendere un po' il controllo di tutto quello che l'ha mandata in disequilibrio e ad applicare finalmente quell'ordine oltretutto queste sono giornate quelle che vanno da mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì di opportunità da cogliere che possono anche aprire delle porte nuove soprattutto a livello professionale ma possono anche essere delle giornate che creano delle situazioni molto interessanti che invitano la bilancia ad applicare cose nuove a finalmente a orientarsi verso quello sviluppo di progetti con un atteggiamento completamente diverso se dovete fare delle richieste se avete intenzione di incominciare a fare qualcosa fatelo proprio nelle giornate che vanno da mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì per impostare e dare un'ottima firma energetica a tutto quello che può nascere proprio in quelle giornate a livello professionale quelle sono giornate anche che portano la bilancia a cogliere delle nuove opportunità ma anche ad essere particolarmente visibile e apprezzata e quindi sfruttate al massimo queste giornate per fare anche le vostre richieste del caso inoltre le giornate del fine settimana saranno caratterizzate dalla presenza della luna che transita nello spazio zodiacale dello scorpione e quindi la bilancia avrà l'attitudine a dare molto più spazio e credito alle nuove priorità al benessere avrà proprio la tendenza a ritagliarsi degli spazi solo suoi ma soprattutto sentirà la necessità di staccare la spina da tutte quelle situazioni o cose che la stanno inquinando energeticamente e il fine settimana sarà anche molto piacevole per dedicarsi agli hobby agli interessi a quelle cose che portano un ritmo e un andamento un po' più tranquillo in questa vita un po' strappazzata della nostra bilancia parliamo di sentimenti perché in questo momento venere si trova in opposizione nel segno della riete e quindi è un periodo di grandi opportunità ma anche di fine di tutte quelle cose che poggiano su delle basi troppo fragili e quindi nei rapporti che sono già consolidati questa venere non fa sconti e non fa prigionieri ma soprattutto porta la bilancia a cambiare atteggiamento a non appoggiarsi più su queste dinamiche che possono anche essere diventate particolarmente tossiche e quindi vedremo una bilancia scendere in campo per prendere delle decisioni e chiudere tutto quello che energeticamente la sta mandando in disequilibrio le giornate per prendere delle decisioni e incominciare magari a tracciare un nuovo tipo di percorso anche nelle relazioni saranno proprio quelle che vanno da giovedì a venerdì oltretutto questa è una venere che porta a ufficializzare delle cose quindi nelle coppie che sono appena nate o nelle coppie che sono già consolidate tutto quello che riguarda il progetto ma anche l'ufficialità del rapporto prende forma proprio sotto questo bellissimo cielo e venere vi porterà a siglare un nuovo andamento nelle dinamiche di coppia per i più giovani viene ufficializzata la coppia presentando magari il partner ai parenti agli amici e viceversa per i più consolidati e i più rodati del segno in coppia questa è una venere che parla di grandi progetti in espansione espansione che verrà e raggiungerà il culmine proprio entro la fine di marzo e aprile quando anche il sole andrà poi a lambire questo giove che si trova in opposizione e quindi si può parlare di matrimoni si può parlare di convivenze si parla di un progetto importante per quanto riguarda invece i single occhi aperti all'orizzonte le prime giornate saranno un po' frenetiche stancanti e magari non avrete nemmeno il tempo di dare spazio a queste cose ma nelle giornate che vanno da mercoledì pomeriggio fino a tutto venerdì si possono creare delle situazioni molto interessanti negli appuntamenti con persone nuove questa venere vi porterà magari ad allacciare con più facilità questi incontri con persone che magari ruotano attorno al vostro lavoro o che stanno proprio a stretto contatto con voi nel lavoro ma si può parlare anche di rapporti che sono rimasti sullo sfondo per parecchio tempo e che adesso mostrano qualcosa di nuovo fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollici su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare parliamo del segno dello scorpione segno che si prepara a stappare lo champagne a brindare a un nuovo capitolo di vita grazie a Saturno che questa settimana lascia lo spazio zodiacale dell'acquario per entrare nel punto più forte del cielo del nostro scorpione e per lo scorpione inizia un periodo di ricostruzione sulle macerie di una vecchia vita che non c'è più lo scorpione completamente trasformato che andrà incontro a una nuova fase di ripresa dove la forza di volontà la voglia di rimettersi in discussione saranno il comune denominatore dei prossimi anni e il 2023 è subito pronto a tendervi una mano promettendovi anche l'espansione ora quello che voi dovete immaginare è che non è che nel momento in cui Saturno esce eia cambia completamente la vita dello scorpione ma quello che cambia è il vostro atteggiamento perché adesso con un Saturno in trigono e quindi in aspetto di forza vi verrà data la possibilità di applicare anche il cambiamento là dove avete riscontrato delle enormi difficoltà o dove avete dovuto abbattere delle cose per farle funzionare la struttura è pronta è rimasto solo lo scheletro molto probabilmente e adesso si ricostruisce da capo tutto quanto con un atteggiamento completamente diverso questa peraltro sarà una settimana che incomincia a creare delle spinte che saranno importantissime a livello interiore vedremo uno scorpione più proiettato verso il futuro con un entusiasmo nuovo con la voglia di riprendere di riprendere tutto quello che gli è stato negato e con una grande voglia di riscattarsi che farà la differenza e quindi vedremo uno scorpione inarrestabile che non scenderà più a inutili compromessi e che piano piano incomincia a risollevarsi dalle macerie ora la settimana si apre con una bellissima luna che transita nel segno della vergine e che nella giornata di martedì diventa piena questa luna chiude un portale che ha incominciato ad aprirsi verso il 20 di febbraio quando la luna è diventata nuova nel segno amico dei pesci e si crea un ponte tra quelli che sono i vostri desideri e i progetti da realizzare nel futuro il tutto condito da un'enorme creatività tanti sono i pianeti che stanno transitando nel segno dei pesci e che accendono i riflettori su quelle che sono le vostre ambizioni ma anche i progetti più brillanti da realizzare e che li utilizzerete proprio per riscattarvi dopo tanti anni difficili ed ecco che in questa settimana arrivano le intuizioni i colpi di fortuna le idee brillanti che hanno il delicato compito di guidarvi verso a un nuovo appuntamento che si manifesterà tra pochissimo quando venere incomincerà dal 17 di marzo a entrare in opposizione e lì si apre un nuovo capitolo di vita che vi accompagnerà poi entro maggio all'appuntamento con giove in opposizione e quindi un periodo anche di grande riequilibrio energetico dopo tanta tanta fatica nelle giornate di lunedì e di martedì avrete anche la possibilità di essere notati di cogliere nuove occasioni anche nel lavoro e di ottenere già una parte di quei riconoscimenti che vi sono stati negati possono arrivare delle comunicazioni possono arrivare delle telefonate si possono creare delle situazioni che incominciano a instradarvi verso una nuova direzione se dovete fare delle richieste ma anche incominciare a sviluppare i vostri progetti e non sapete da dove incominciare mettetevi all'ascolto cercate di dare retta i segnali di queste giornate ma soprattutto non tenetevi dentro le vostre richieste incominciate a tirare fuori le vostre nuove necessità le giornate di mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì sono un po' impegnative a livello pratico e logistico e quindi probabilmente ci saranno delle scadenze dei progetti da portare a termine che vi staranno un po' con il fiato sul collo e in quelle giornate ci sarà la possibilità di anche fare delle cose molto importanti a livello professionale o raggiungere già dei traguardi o comunque iniziare a consolidare qualcosa il tutto però condito da un'enorme fatica che vi porterà poi verso sera a ritrovarvi con le gomme a terra mentre invece le giornate del fine settimana che sono caratterizzate dalla presenza della luna nel vostro spazio zodiacale lì avviene un riequilibrio importantissimo saranno giornate potentissime che porteranno tutto nella vostra direzione si creano degli aspetti importanti con il sole nei pesci con mercurio nei pesci con nettuno e anche con saturno e quindi incomincia con questo weekend una fase importantissima di ripresa dove lo scorpione sarà il protagonista e possono crearsi delle situazioni nel fine settimana che vi porteranno a valutare magari delle richieste a uscire perché vi arriva un invito e sono anche molto piacevoli come giornate quelle del fine settimana per il benessere fisico spirituale ma anche per tutti i divertimenti parliamo di sentimenti in questo momento venere si trova nel segno dell'ariete non una posizione felicissimissima per lo scorpione ma la cosa più importante con questi pianeti che stanno transitando nel segno amico dei pesci è l'amore per se stessi che è un po' la cosa più importante perché se non c'è amore di sé non può arrivare dall'esterno e quindi questo è da considerare come un momento importante di autoguarigione sulle ferite che avete magari subito o che si sono create o che vi siete addirittura fatti nel corso degli ultimi anni ora questa venere però nell'ariete vi porta ad essere ancora non del tutto pronti magari ad aprirvi a un rapporto nuovo vi aiuta però a curare tutte le vostre ferite anche se non escludo che nel fine settimana qualcosa di importante una novità che incomincia a far cambiare l'aria possa presentarsi anche con poco preavviso o addirittura si possono ripresentare delle occasioni come delle rivincite personali che vi aiuteranno poi a guarire quel tipo di ferita che si è creata o che vi siete creati nei rapporti e nelle relazioni le giornate anche di lunedì e martedì se siete single sono molto interessanti perché avrete la possibilità di catalizzare l'attenzione su di voi ma quelle più belle saranno proprio quelle del fine settimana per chi invece è in coppia da tanto tempo beh da questa settimana incomincia un andamento completamente diverso dove sarete più leggeri e quindi anche con il partner ci si può aprire a un dialogo diverso a una disponibilità diversa da parte vostra e da parte del partner e questo vi aiuterà a dare un nuovo andamento anche ai rapporti che si sono appesantiti poi le novità importanti progetti la progettualità la voglia di proiettarsi in questo futuro nuovo da scoprire avverranno dalla seconda metà di marzo in avanti quando anche venere entrerà in opposizione e porterà tutta una serie di nuove ufficialità del caso fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare e vi siete proprio meritati questo momento di ripresa parliamo del segno del sagittario un segno che si prepara a vivere una settimana che sarà abbastanza tesa e molto dinamica soprattutto a causa di questa luna che diventa piena nel segno della vergine e che genererà tutta una serie di pressioni che invitano il sagittario a raggiungere dei traguardi o a portare a termine delle cose il tutto condito con un pizzico di fatica ora per quanto riguarda il transito di saturno che entra nei pesci proprio da questa settimana e che vi coinvolgerà da molto vicino nel corso dei prossimi tre anni perché incomincia un percorso nuovo per il sagittario uscirà un video a parte solo ed esclusivamente dedicato al transito di saturno nei pesci entro il 7 di marzo quindi non vi preoccupate l'unica cosa che voi dovete sapere però è che non è che nel momento in cui entra saturno cambia completamente la vostra vita vi stravolge tutto e oddio oddio non mi dovete andare in panico cari miei perché il pianeta saturno non è un pianeta che rivoluziona in battibaleno tutto quello che c'è da fare saturno è un pianeta lento che si prende il tempo e che vi dà anche tutto il tempo che vi serve per mettervi in bolla è un pianeta che fa toc toc avvisa e non perde mai la pazienza perché saturno vi dice ragazzi no 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 è come il papà buono e severo che vi deve insegnare qualcosa e quindi non è un pianeta come urano che agisce così dall'oggi al domani e stravolge il vostro status quo questo per dirvi che non dovete preoccuparvi di saturno adesso semmai dovete preoccuparvi di marte che è ancora in opposizione e di questa luna che diventa piena proprio a inizio settimana che andrà in rotta di collisione con tutti i pianeti che avete in questo momento in quadratura nel segno dei pesci e anche con marte in opposizione ora a livello simbolico quello che il sagittario sta facendo in questo momento è il cambio della pelle la muta sta lasciando e abbandonando il vecchio guscio per farne uno nuovo per farsi la casetta nuova in ogni modo questo poi naturalmente avrà più senso nel momento in cui saturno entra nel segno dei pesci perché parla proprio di questo cioè di mettere portando rigidità alla struttura ad ogni modo questi pianeti che si trovano nel punto più basso del vostro cielo che stanno transitando nel segno dei pesci portano il sagittario a rendersi conto che forse ci sono delle fragilità nella propria famiglia d'origine ci possono essere delle preoccupazioni magari connesse alla casa o nel lavoro o nei rapporti e il compito è proprio quello di fortificare delle cose per cambiare atteggiamento il tutto però condito da una luna che diventa piena proprio a inizio settimana e che può esasperare a livello emozionale alcune cose che vi portano ad essere molto tesi come delle corde di violino o a prendere tutto un po' troppo sul personale o a gestire magari delle sfide anche nuove che vi generano un pizzico di ansietta perché poi ognuno di voi si ritroverà a fare un certo tipo di lavoro quello che dovete sapere è che con questa luna che diventa piena martedì molte cose che sono in cantiere in termini di progetti in termini di obiettivi da raggiungere verranno portati a termine e raggiungeranno anche il punto di cottura ideale è possibile che nel lavoro ci possano essere delle importanti di novità richieste magari per nuovi incarichi che ho un tanto di responsabilità nuove si possono creare magari delle nuove sfide o si possono anche creare delle situazioni che vi portano magari a scontrarvi con un superiore con un capo con una persona magari che vi può ostacolare e minacciare qualora dovessero crearsi dei problemi e non dei vantaggi che portano delle soluzioni cercate di capire in modo molto diplomatico come aggirare l'ostacolo e trovare il modo di raggiungere comunque quel traguardo cambiando sistema qualora dovessero essere troppo impegnative come giornate quelle di lunedì e di martedì mettetevi nella modalità aereo cercate di osservare di essere spettatori della vostra vita guardando quali sono quei punti fragili che non vi consentono ancora di raggiungere la vetta ad ogni modo possono presentarsi delle situazioni anche di sfida ma che racchiudono delle opportunità da cogliere a inizio settimana ad ogni modo qualora i livelli di tensione o di fragilità dovessero aumentare a dismisura ripiegate su quello che vi dà delle garanzie su quello che vi fa stare bene temporeggiate un attimo e utilizzate le giornate di mercoledì giovedì e venerdì che saranno molto più disponibili infatti si allenta quella cappa opprimente della luna che diventa piena a inizio settimana e la luna nella bilancia vi aiuterà a mediare a negoziare a trovare una soluzione ma anche a cogliere delle nuove opportunità che si possono presentare attraverso o delle amicizie o delle collaborazioni nuove e questo vi aiuterà anche a vedere il problema da una prospettiva diversa e lì in quelle giornate si possono anche creare delle situazioni che vi porteranno a chiudere qualcosa e a proiettarvi verso un nuovo futuro qualora il presente che avete non è proprio se non è all'altezza delle vostre aspettative e non vi piace allora potrete chiudere prendendo una decisione se siete in una fase di sviluppo di un progetto nuovo quelle giornate soprattutto di giovedì e di venerdì creano delle condizioni e delle situazioni che vi porteranno a sfruttare delle occasioni quindi mi raccomando tenete gli occhi aperti inoltre nelle giornate del fine settimana la luna che transita nel segno alle vostre spalle nel segno dello scorpione vi invita a fare un passettino indietro a stare un po' da soli a cercare l'isolamento avrete bisogno molto di contemplazione di relax di solitudine e proprio di silenzi quindi andate magari a farvi una bella passeggiata nei boschi tempo permettendo evitate luoghi troppo affollati o circondatevi di persone che vi fanno stare bene non escludo che nel fine settimana possa arrivare un aiuto importante da parte di un familiare che vi può alleggerire in questo momento che può essere molto impegnativo per quanto riguarda la casa o un parente che magari vi sta portando a prendervi un po' più cura di quel tipo di problema o di un parente che magari ha bisogno di voi e quindi c'è una situazione che ricrea un certo tipo di armonia questa luna che transita nel segno dello scorpione nel fine settimana parliamo di sentimenti perché se è vero che da una parte del cielo vedo un sagittario che poverino incomincia ad essere un po' affaticato dall'altra venere nel segno dell'ariete brilla come un talismano porta fortuna pronto ad attivarsi nel momento del bisogno e questo porta chi è in coppia e sta bene a vivere un momento molto importante dove il sagittario può far leva e può trovare un punto di riferimento nel proprio compagno questo è un momento estremamente creativo molto passionale che riaccende la caldaia dei sentimenti e quindi anche sotto le lenzuola avviene qualcosa di molto importante questo può essere un ottimo momento anche per valutare l'arrivo di un figlio se siete alla ricerca ma anche per inserire elementi nuovi che portano leggerezza nelle coppie come hobby da condividere con il partner oppure fare qualcosa con gli amici qualcosa che possa creare anche tutta una sorta di distrazione da un momento che può essere particolarmente affaticante non escludo che tra lunedì e martedì ci possano essere magari dei momenti dove si creano un po' di tensioni con il partner per quanto riguarda invece i single questo può essere un momento molto interessante con venere che sta transitando nella riete dove nascono delle passioni anche del tutto inaspettate per magari persone che ruotano nelle amicizie o attraverso gli interessi si possono creare delle situazioni che divampano anche senza controllo proprio perché c'è anche Marte in opposizione quindi in quel momento dovete anche cercare di capire voi chi avete attirato se la persona è disponibile o no a costruire e prima di partire a bomba e di bruciare le tappe e di consumare subito l'entusiasmo cercate di capire che cosa siete disposti a dare voi per poi rinegoziarlo con la persona che state incontrando le giornate più fortunate per fare incontri se siete single sono quelle di giovedì e di venerdì fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno del capricorno c'è aria di cambiamenti in casa capricorno già e non mi riferisco solo alla casa come ambiente dove vive che potrebbe anche in questo momento valutare un cambiamento un cambio di casa o valutare un investimento ma è proprio quello che si verifica da questa settimana con saturno che lascia lo spazio zodiacale dell'acquario dove ha transitato nel corso degli ultimi tre anni per entrare in rapporto armonico nel segno dei pesci che aiuterà il nostro capricorno a sbloccare diverse cose e a raggiungere in velocità nuovi traguardi ma anche ad apportare dei cambiamenti importanti nella vita nella quotidianità del nostro capricorno il tutto condito da una super potentissima luna che diventa piena nel segno della vergine che si forma nella giornata di martedì e che creerà un ponte tra l'asse terza nona che è la casa dei viaggi della scoperta ma anche della comunicazione delle notizie e quindi una settimana che parte con un piede giustissimo e che vi aiuterà a raggiungere in velocità anche nuovi traguardi tutto quello che ha a che fare con la comunicazione le notizie le firme ma anche gli spostamenti e gli appuntamenti importanti che sono da gestire a inizio settimana sono protetti da questa luna che diventa piena nel segno amico della vergine farete anche delle esperienze che saranno determinanti per aprire nuovi scenari da raggiungere e quindi è un po' come avere un mirino che vi aiuta a fare centro al bersaglio se dovete fare delle richieste se avete smosso voi in prima persona delle cose o se state lavorando a un progetto ambizioso queste due giornate a inizio settimana vi aiuteranno a raggiungere con molta velocità ma anche con molta grinta e molta furbizia questi nuovi orizzonti o a raggiungere questi traguardi tutto quello che ha anche a che fare con gli esami se siete alle prese con candidature nell'amministrazione pubblica o se dovete magari finire un esame importante nella vostra carriera universitaria beh sono giornate super fortunate ma anche quelle di mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì caratterizzate dalla quadratura della luna che nonostante tutto pur essendo in quadratura creerà delle situazioni molto interessanti soprattutto nel lavoro ma possono anche nascondere queste giornate delle opportunità da cogliere per quanto riguarda un immobile un cambio di casa o un possibile investimento non escludo infatti che in questo momento il capricorno si stia un po' guardando attorno o che abbia deciso di cambiare delle cose una macchina un elettrodomestico sta pensando di cambiare arredamento e sono quelle le giornate che daranno un impulso soprattutto quelle di mercoledì e di giovedì anche se a livello professionale si creano in quelle giornate delle situazioni importanti che vi porteranno magari a ottenere delle conferme da parte magari di un superiore o a rinegoziare qualcosa ma anche sono giornate che vi possono aiutare a sistemare delle cose che magari vi hanno mandato in disequilibrio nei rapporti professionali se si sono creati degli strappi degli screzzi con qualcuno con un collaboratore o con un collega ci possono essere delle situazioni che vi portano a riappacificarvi ma anche a ricreare un ambiente meno tossico attorno a voi e che dire delle giornate del fine settimana che saranno caratterizzate dalla presenza della luna che transita nel segno dello scorpione e questa luna promette di aiutarvi a sbagarvi nel fine settimana a fare qualcosa di diverso dal solito magari decidendo di andare a fare un viaggetto fuori porta o a visitare un museo perché no anche a sviluppare meglio un vostro progetto o dedicare il vostro tempo ad amici e iniziative che avevate messo da parte per un bel pezzo parliamo di sentimenti perché se c'è un'unica nota dolente un unico neo nella settimana sono proprio nei rapporti perché la quadratura di venere di transito nel segno dell'ariete da questa settimana può appesantire un attimino le coppie che hanno già qualche difficoltà e qui si parla più che altro di capire un attimino dove si sta andando qual è il progetto se c'è un progetto oppure no e quindi per le coppie che magari hanno un po' più di difficoltà le giornate più negative sono quelle che vanno da mercoledì pomeriggio fino a tutto venerdì e non escludo che si possano creare delle situazioni che vi porteranno insomma a prendere una decisione o a cercare in qualche modo di capire che tipo di direzione volete dare alla vostra relazione in essere per le coppie che sono consolidate da parecchio tempo e che stanno bene questa venere parla di progettualità di costruzione vuole delle garanzie ma vuole anche delle protezioni e questo vi porterà magari a rivalutare un progetto con il partner e tutto quello che ha a che fare un po' con la famiglia d'origine o vostra o del partner potrebbe creare tutta una serie di preoccupazioni nel corso della settimana che vi porterà magari a disinvestire un attimino nelle dinamiche di coppia per arginare per contenere queste problematiche tuttavia saranno poi le giornate del fine settimana che porteranno una maggiore distensione e più leggerezza e questa leggerezza vi aiuterà anche a dare un nuovo andamento un andamento che poi prenderà forma dalla seconda metà di marzo in avanti quando venere diventerà una vostra preziosa alleata parliamo di single perché in questo momento io vedo un capricorno un po' più birbantello nel senso che è possibile che in questo momento il capricorno stia valutando diverse conoscenze nuove o non ha ancora le idee molto chiare su cosa deve ottenere a livello di rapporti e di relazioni e questo lo porta magari a intrecciare diversi rapporti che però non lo stanno portando da nessuna parte o lui o lei non si sentono ancora del tutto pronti per avviare una relazione ora quello che dovete sapere è che questa venere vi porta ad essere o confusi fragili un po' troppo emotivamente coinvolti e quindi questo non vi dà il permesso di costruire in questo momento tuttavia non escludo che questa settimana soprattutto nelle giornate a inizio settimana e poi ancora verso la fine nel weekend si possano creare delle situazioni che vi porteranno a incontrare delle persone che hanno qualcosa di diverso rispetto alle altre e magari queste persone poi vi daranno il permesso di costruire dalla seconda metà di marzo in avanti fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una super settimana stellare e ci vediamo al prossimo video parliamo del segno dell'acquario avete presente con le mani con le mani con i piedi e con il fondo schiena ciao ciao esatto il nostro acquario si prepara a salutare Saturno che nel corso degli ultimi tre anni ha fatto un intenso lavoro sul nostro acquario e che questa settimana il 7 di marzo esce dal segno per entrare in quello dei pesci e da lì inizia un nuovo capitolo di vita per il nostro acquario che è stato particolarmente appesantito nel corso degli ultimi anni e questo Saturno porterà sicuramente un po' più di leggerezza nella vita dell'acquario che adesso sarà molto impegnato a ricostruire e a riprendere in mano la propria vita una vita che adesso però invita l'acquario ad avere maggiori garanzie nuove necessità da sviluppare un acquario cambiato trasformato più consapevole e che adesso non perderà tempo dietro ai inutili dettagli vorrà andare al sodo delle cose ed è anche un po' questo il senso di Saturno che lascia il vostro spazio zodiacale per entrare nella vostra seconda casa nella seconda casa ci sono le priorità le necessità vecchie nuove che siano non importa ad ogni modo vedremo un acquario che non gioca più al ribasso o che ha un profilo basso ma un acquario che entra in campo per legittimarsi per ottenere di più nel lavoro nei rapporti in tutto quello che definisce l'acquario e che possiede l'acquario o che vorrebbe possedere in questo momento il tutto condito da una luna che diventa piena nel segno della vergine il giorno 7 di marzo e che aiuterà a risollevare il nostro acquario soprattutto nel comparto finanze se siamo di fronte a un acquario che è stato prosciugato nel corso dell'ultimo periodo ma anche per tutti quegli acquario che hanno avuto delle difficoltà che si sono magari dovuti difendere o che hanno avviato delle battaglie legali per ottenere magari giustizia e quindi si sono impegnati si sono alle prese con questioni burocratiche da mettere a posto ed ecco che le giornate di inizio settimana incominciano a staccare un credito ed è da questo credito che vedremo un acquario in ricostruzione dopo anni molto intensi di distruzione è un acquario che però è trasformato ha cambiato pelle non è più quello di prima un acquario sicuramente più consapevole e queste due giornate daranno il là a questo tipo di cambiamento questa super luna che si presenta a inizio settimana potrebbe aiutarvi anche a mettere a posto delle cose che vi hanno coinvolto in prima persona nell'ambiente familiare e personale quindi ci possono essere delle novità anche per tutti quegli acquario che hanno avuto delle problematiche magari da gestire nella suddivisione dei beni dopo un'eredità o magari se hanno avuto poi magari delle sfide da gestire proprio in ambito familiare o connesse alla casa ad ogni modo se siete alle prese anche con questioni burocratiche che riguardano un prestito che avete chiesto o un finanziamento o un mutuo per la banca le giornate di lunedì e di martedì vi mostreranno qualcosa di positivo sono anche giornate che vi porteranno ad aprire definitivamente gli occhi forse perché siete alla fine di un percorso ne incomincia uno nuovo e quindi aprirete gli occhi su un mondo nuovo ma potreste anche accorgervi di quelle persone o situazioni che si sono ormai completamente disallineate rispetto a quello che è il vostro progetto di vita e da lì incomincerete a tracciare dei confini proteggendovi e alla luce anche di questo cambio di atteggiamento che incomincerete ad applicare proprio con questa settimana le giornate invece di mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì saranno caratterizzate dalla presenza della luna nel segno amico della bilancia e sono giornate di movimento ma che portano anche a percepire che l'aria è diventata più frizzante portano buon umore determinazione forza di volontà ma anche positività queste giornate sono molto utili per ottenere magari delle conferme se avete fatto dei colloqui se state pensando di cambiare lavoro se avete fatto delle richieste ma anche per tutti quelli che devono sostenere colloqui in quelle giornate soprattutto per quelli che devono sostenere degli esami non escludo che possano arrivare anche delle proposte nuove che magari vi spiazzano inizialmente cercate di non fare un passo indietro davanti a queste richieste o opportunità da cogliere perché magari alcuni di voi si possono sentire ancora non del tutto all'altezza non pronti perché quelle proposte vi porteranno poi ad un altro appuntamento che si verificherà molto presto con l'inizio della primavera dove possono veramente aprirsi capitoli di vita e orizzonti nuovi da esplorare che sono ricchi di opportunità da cogliere nel fine settimana la luna formerà una quadratura nel segno dello scorpione ma ci sarà nonostante tutto la possibilità di vivere un fine settimana molto nutriente e arricchente questa luna che si forma nel segno dello scorpione sarà molto utile per tutti quegli acquario che purtroppo nel fine settimana lavorano perché si ritroveranno a gestire magari delle nuove sfide delle responsabilità che aiuteranno loro ad emergere davanti a chi vi può giudicare nel lavoro ad esempio magari proprio perché è il fine settimana e non ci sono i soliti disturbatori avrete la possibilità di lavorare meglio di raggiungere meglio dei traguardi e vi sentirete anche padroni del palcoscenico e quindi ci sarà la possibilità di vivere un bel fine settimana per tutti quelli che invece non lavorano questo è un fine settimana che vi porta in qualche modo a sentire forte il bisogno di casa sarete alla ricerca proprio della tranquillità delle cose che vi danno delle maggiori garanzie che vi fanno sentire sereni e al sicuro questo è un po' il comune denominatore di questo fine settimana per quanto riguarda il discorso sentimenti venere che sta transitando nel segno dell'ariete crea un sacco di stimoli soprattutto a livello mentale si possono creare delle situazioni in coppia che parlano di nuovi progetti a più non posso in questo momento potrebbero essere in tanti gli acquario in coppia che sono una fucina un cantiere a cielo aperto di progetti e di iniziative conditi anche da questo bisogno di leggerezza e questa settimana le giornate di mercoledì giovedì e venerdì regalano delle sorprese delle novità per le persone che sono in coppia ma possiamo anche parlare di un momento dove l'acquario ritrova il benessere nella coppia la voglia di comunicare la voglia di proiettarsi nel futuro con progetti nuovi non escludo che poiché siamo di fronte a un acquario che si è appesantito parecchio nel corso degli ultimi anni questo possa essere anche un momento in coppia dove si sta pensando e valutando magari di trasferirsi di ricominciare da capo magari da un'altra parte con il partner e questa è una vendere che regala delle sorprese delle novità proprio in settimana per quanto riguarda i single non correte veloci non traete conclusioni affrettate non mettete il carro davanti che hai buoi perché questa è una venere che vi porta da una parte a non considerare la parte quella fisica ma quella mentale siete alla ricerca di stimoli mentali nuovi e quindi potreste anche essere sedotti o provare un'attrazione per più persone contemporaneamente e non riuscire a scegliere ad ogni modo questa settimana vivrete dei momenti dove ci sarà la possibilità di fare degli incontri con persone che hanno qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre persone o a tutti gli altri incontri che avete già fatto queste persone hanno una carica particolare e irrompono nella vostra vita mostrandovi delle cose anche mostrandovi quanto siete cambiati e possono mettervi anche alla prova ad ogni modo le giornate di mercoledì giovedì e venerdì sono le più importanti per conoscere qualcuno che può lasciare il segno fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare e dai che il peggio è alle spalle ciao parliamo del segno dei pesci il protagonista in assoluto del momento grazie al sole che sta transitando nel vostro spazio zodiacale ma anche per qualcos'altro non solo perché questa settimana arriva saturno ma questa può essere davvero una settimana decisiva per il nostro pesci perché tanti sono i pianeti che sono presenti nel vostro spazio zodiacale mercurio è appena arrivato c'è il sole c'è nettuno e da questa settimana arriva anche saturno dal 7 in avanti saturno per chi non avesse ascoltato l'introduzione per quanto riguarda il discorso del saturno farò un video a parte che uscirà prima del 7 di marzo dove vi spiego meglio quale tipo di lavoro farete nel corso dei prossimi anni con questo saturno il tutto condito da una luna che diventa piena in opposizione proprio questa settimana e perché vi dicevo che è una settimana che può essere decisiva perché questa luna che diventa piena nel vostro spazio opposto serve intanto a riequilibrare delle cose che magari vi hanno mandato in disequilibrio ma può anche essere una settimana dove i pesci entreranno in campo per legittimarsi e per incominciare a mettere a posto tante cose anche perché il senso di saturno è quello di concretizzare i pesci lo sappiamo tutti sono un segno che è governato da nettuno e che quindi sono dei sognatori hanno degli aspetti di compassione che sono meravigliosi ma allo stesso tempo rischiano di perdersi in un bicchiere d'acqua possono avere magari dei sogni nebulosi delle idee confuse o a non riuscire a catalizzare quello che vorrebbero realizzare nella propria esistenza rischiando di perdersi bene saturno questo non lo permetterà più perché in qualche modo il compito di saturno è quello di rimettervi in bolla ad ogni modo questa luna che diventa piena nel segno della vergine questa settimana pone un accento sui rapporti sui progetti professionali e sono molte le cose che si manifesteranno tra lunedì e martedì giornate dove possono arrivare delle notizie dove può prendere l'ufficialità di un nuovo rapporto professionale possono concretizzarsi delle cose che erano rimaste lì sullo sfondo e quindi avviene anche una sorta di ridistribuzione del peso di riequilibrio del cielo se alcune cose vi hanno mandato in disequilibrio le giornate di lunedì e martedì possono anche smuovere delle cose o portare a termine un progetto che avete iniziato da poco ma si può parlare anche di situazioni che sono in essere da sei mesi circa e che raggiungono il punto ideale di cottura proprio tra lunedì e martedì se dovete fare delle richieste se dovete incominciare a far leva su delle cose se dovete sistemare delle cose utilizzate questi due primi giorni della settimana perché avrete la possibilità di rilasciare nel cosmo una firma energetica alcuni di voi saranno ancora pesantiti dal transito di marte in quadratura e non escludo che proprio a inizio settimana complice questa luna che diventa piena nel segno della vergine ci possano ancora essere dei momenti dove la famiglia la casa o nel lavoro si possono generare un pizzico di tensione o mettere l'accento su tutte quelle cose che dovete sistemare e lì avrete la possibilità di intervenire applicando già dei primi cambiamenti le giornate di mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì saranno determinanti per risolvere un problema a livello burocratico o con tutte quelle questioni che hanno a che fare con le tasse la burocrazia l'economia in generale e se state aspettando dei soldini se dovete riscuotere un credito se avete fatto un prestito e dovete ricevere indietro i vostri soldini quelle sono giornate che vi possono sbloccare un credito sono anche giornate che però a livello interiore vi mostrano alcune cose da un punto di osservazione diverso io non escludo che queste giornate possano anche portare delle rivelazioni mostrandovi la vera natura di alcune situazioni o persone tenete d'occhio queste giornate perché se qualcuno vi dovesse fare uno sgambetto se qualcuno dovesse incominciare a mostrare delle cose che non vi piacciono in quelle giornate mettete sotto revisione prestate attenzione a quella dinamica perché poi sarà il comune denominatore tra la fine di marzo e per buona parte di aprile quindi tenete alte le frequenze e soprattutto cercate di schermarvi in quelle giornate cercando di capire che cosa si può nascondere oltre le apparenze nel bene e nel meno bene perché sono sicurissimo che in quelle giornate qualcosa vi verrà rivelato e quindi dovete capire voi che cosa il cosmo vi sta mostrando per intervenire e correggere anche quel tipo di aspetto lì ottimo il fine settimana con la luna di transito nel segno dello scorpione siete pronti a vivere un fine settimana completamente diverso vi preparate a fare delle esperienze nuove che allargano i vostri orizzonti ci sarà anche la possibilità magari di fare un piccolo viaggetto fuori porta o di organizzare qualcosa con gli amici ma anche di valutare all'ultimo minuto un invito o una richiesta che può andare a scompigliare i vostri programmi precedentemente presi fatevi shakerare perché quelle sono giornate dal mio punto di vista che vi regaleranno delle intense emozioni e parliamo di rapporti e di relazioni questa settimana venere transita ancora nel segno della riete quindi la parola chiave è priorità sono priorità che oggi ora più che mai con l'arrivo di saturno nel vostro spazio zodiacale i pesci non andranno più a rinegoziare delle cose e questa venere porta la voglia di realizzare di ottenere in coppia questa è una venere che vi aiuta a concretizzare a realizzare e sono molti i pesci che in questo momento sentono una spinta interiore che li invita ad avere delle garanzie nuove o dei progetti molto solidi da realizzare nel corso del futuro come ad esempio la casa ma questo può anche essere un momento molto interessante per tutti quei pesci che in coppia stanno valutando dei possibili sodalizi da estendere anche a livello professionale con il partner quindi cercate di capire un attimino quali sono quei progetti che per voi sono importanti ai quali non rinuncerete mai e incominciate a mettere la prima pietra su questi progetti e in settimana un po' l'opposizione della luna che diventa piena e quelle giornate che vanno poi da giovedì da mercoledì giovedì e venerdì vi aiuteranno a ufficializzare qualcosa di molto importante nelle dinamiche di coppia single con questa venere non perdete tempo c'è anche il rischio che questa venere possa super proteggervi e quindi di non vedere al di là del vostro naso ad ogni modo le priorità sono il comune denominatore questo è un momento dove alcuni di voi magari sentono la necessità di proteggersi ancora perché magari non si sentono pronti o stanno attirando magari delle persone che hanno intenzioni molto serie ma che rischiano di invadere un po' troppo la corsia e quindi questa cosa vi può spaventare ad ogni modo questa è una settimana che può essere decisiva per fare degli incontri con persone che vi aiuteranno a costruire nel tempo o che hanno intenzione di restare in modo positivo nella vostra vita e le giornate più importanti saranno proprio quelle di inizio settimana e verso la fine della settimana nel weekend fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io auguro a tutti una splendida settimana stellare e ci vediamo al prossimo video che è prima del 7 di marzo ciao